Lo scontro è tutto interno alla maggioranza di centrodestra. Da una parte il sindaco Mario Chiuto, dall'altra l'ex vice sindaco Catia Gentile. Ma non per questo l'opposizione si sente tagliata fuori. Dopo i Democrat Marco Ambrogio, questa volta tocca l'ex candidato a primo cittadino Enzo Paolini. Le affermazioni del sindaco, afferma Paolini, in merito alle pressioni e ai condizionamenti subiti dagli uffici comunali relativamente a concessioni, autorizzazioni, appalte e favoritismi sono di una gravità unica. Invocare l'intervento della magistratura per fare luce su pratiche riguardanti il governo della città che implicherebbero addirittura infiltrazioni mafiose non è problema di ordinare amministrazione. Insomma, c'era da aspettarselo che le accuse rivolte dall'ex vice sindaco Gentile al primo cittadino Chiuto e le dure repliche di quest'ultimo avrebbero infuocato gli animi. Se troveranno fondamento le accuse rivolte a Chiuto per come ha gestito fino ad oggi l'appalto e i lavori di Piazza Bilotti, vorrà dire che siamo stati facili profeti quando per prime abbiamo denunciato irregolarità e violazione di legge. In calza Enzo Paolini la vicenda ovviamente non ha solo contorni giudiziari ma è anche politica e dunque Paolini invita il sindaco a venire a riferire in consiglio comunale. La città dice è turbata e perplessa ed è oggettivamente tardiva la reazione del sindaco se davvero avesse subito pressioni e condizionamenti.